Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Atomic Heart e in questo video andremo a vedere l'enigma delle caldaie. Siamo esattamente in questa stanza, come potete vedere, e dobbiamo spostare le pallette per raffreddare le caldaie. Quindi andiamo a vedere come si fa. C'è gente? Aspettate. Aspettate che c'è gente. Ovviamente prima fate fuori tutti. Bene, fatti fuori tutti, prendete la prima palletta. E la inserite qui. Una volta inserita, venite di qua. Ah, prendete. La trascinate da questa parte, con quel doppiaggio è una figata. Qua. E la prima la posizionate qui. Poi prendiamo un'altra palletta. La inseriamo qui. E stavolta andiamo verso il lato sinistro. Andiamo in su. Ed ecco fatto. Poi prendiamo la terza palletta. Ma che diavolo è venuto in mente, mi direi gente? Sono stufo di spingere palle nei tubi. Lo stiamo facendo per andarcene dal complesso Vavinov. Ma perché non posso... Non so... Uscire da una porta normale. Temo che sia disponibile solo una porta anormale. Anormale. Corello. No, scusate. Qui dobbiamo andare in giù. Perdonatemi. Andiamo di qua. Ok, la spostiamo in quest'altro tubo di qua. Ecco qua. Enigma risolto, giovani. Poi state attenti perché vi attaccano in 400. Ok, giovani. Direi che per questa videoguida è tutto. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Commentate, condividete, lasciate like. Grazie mille per averci seguito. E alla prossima. E fateci sapere cosa ne pensate di questo titolo. Grazie mille per averci seguito. 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 Grazie a tutti.